E carissimi amici, carissimi amiche, benvenuti sul canale, ancora buon venerdì, vedremo questa sera se a questo grado si parlerà sicuramente, credo, del caso di Pierina Paganelli, perché se ne sta parlando molto sui social un po' dappertutto. E la pista credo sia precisissima, beh, che che ne dica qualcuno che è direttamente interessato. Perché anche quelle simulazioni fatte dagli inquirenti sui percorsi di quella fantomatica figura che esce alle 22.20, sembra che esca, diciamo, dal garage facendo un percorso sottostante da altra scala, diciamo, e che poi il rientro sia dal portone dove abita, insomma, dove abitava Pierina, dove abita Manuela. Sono state fatte diverse traiettorie, ma sembra proprio che si sia, diciamo, insistito particolarmente su una traiettoria che porta l'uscita sottostante, certamente da un'altra scala parecchio più lontana, come per non attirare l'attenzione, e il rientro invece è stato fatto per il portoncino. Questo perché, anche a sicuro di logica, se si va per, diciamo, un più che sospetto verso i soliti noti, Luiz in particolare, ad esempio, è certamente il momento in cui si ipotizza che uno possa uscire con un prodotto sposto, con questa busta in mano, questo sacchetto in mano, magari insanguinato, contenente il coltello, beh, se si esce dal portoncino, quello là, insomma, di propria abitazione, e si incontra qualcuno, e poi quel qualcuno si ricorda. Invece si è uscito altrove e si è rientrato da là. Se si è rientrato da là, certamente, pure se si fosse incontrato qualcuno, diceva, beh, uno rientra nella propria abitazione, senza avere più in mano niente. Quindi, è un po' questa, diciamo, la ipotesi. Poi, per quanto riguarda, si è parlato molto di questa disponibilità, dell'appartamento, del garage, che si vuole negare per dire, ad ottobre non c'era formalmente questa disponibilità, io questo non lo so, però, certo è che quello scooter contenuto, cioè, depositato in quel box dell'amica, sembra che sia stato visto, guidato più volte dalla Valeria, che poi non fosse intestato a lei. Credo che questo non c'entri niente, perché non è che uno è obbligato a condurre un motorino, diciamo, di proprietà. Quindi, penso che gli inquirenti abbiano la pista giusta e la mancanza di avvisi di garanzia, secondo me, è legato esclusivamente a un fattore tecnico. Un fattore tecnico, perché si aspetta, si sta aspettando il completamento dell'inchiesta, il deposito della perizia autoptica. Rimane soltanto questo consulente Barzan, che stoicamente difende tutto, in Loris in particolare, dicendo, in relazione a una sua intervista, dice, la sua credibilità è fuori discussione, la sua credibilità è fuori discussione. Ora, per carità, io mi permetto di far notare come questa credibilità non sia fuori discussione. Cito degli elementi, ad esempio, il fatto che dopo tanto tempo, dice, io quel giorno forse sono passato da sotto perché non c'era nessuno a casa di mia sorella, quando poi, recentissimamente, lui ha detto di essere stato a casa della sorella, che lei non c'era, ma c'era la nipote, e lui ha tenuto compagnia alla nipote fino all'arrivo di Manuela. Quindi, la nipote c'era, se lui avesse bussato, allora sarebbe stato aperto. Quindi, non è vero che è andato da sotto perché non c'era nessuno. Quindi, questo pure stride, come stride, ad esempio, stridono quelle foto, quelle strane foto fatte senza cane, vi ricordate, di cui abbiamo più volte parlato. Poi, come pure quando riferisce della zoppia dell'amico Luis, lo riferisce, lo dice e non dice. Dice, no, io non lo so, soppicava, non soppicava, cercava degli appoggi, dice. E poi dice, sì, ma lui se il giorno prima camminava bene, perché quando uno fa un incidente in moto e le conseguenze, il dolore viene dopo 48 ore. Ma chi l'ha detto questa cosa qui? Ma anche che fosse vera, anche che fosse vera, e allora uno o zoppica o non zoppica. Non è che zoppica intermittenza, perché qui non solo c'è l'occhio di una telecamera quel pomeriggio del giorno 3, ma c'è pure qualche condomino che testimonia che lui camminava bene. Allora, se in favore di telecamera zoppicava e poi invece non zoppicava quando stava da solo, non è che è una zoppia ad intermittenza. È questo che voglio dire, non è ad intermittenza. Quindi, è inutile che si parli di presunzioni giornalistiche. Ora, anche per quanto riguarda queste amicizie, questa rottura dell'amicizia, insomma, è una rottura di amicizia un po' strana, un po' sospetta, perché tante amicizie con Valeria, con Lewis, tante riunioni insieme e non si vedono più. Banzan, storicamente, dice, si fa sempre più strada l'ipotesi dell'esecutore materiale, esterno, eccetera. E quindi si potrebbe ipotizzare pure, dico io, un mandante. Ma è inutile che anche in alcune trasmissioni si dice, allora ipotizziamo che ci sia un esecutore esterno, allora c'è un mandante. Ma il mandante, ma voi pensate che il ruolo del mandante sia minore del ruolo dell'esecutore? Il mandante chi sarebbe se noi ipotizziamo il nome del mandante? E siamo sempre in quell'ambito lì. Quindi, cosa significa questo? Che il mandante chi può essere? Se non derivante da quella situazione, quindi non cambia di una virgola, diciamo, un discorso legato alle responsabilità. E poi, sempre per quanto riguarda l'affidabilità di Loris e di tutti i personaggi, ricordiamoci che fino a poco tempo fa veniva negata addirittura l'esistenza di questo rapporto pseudo amoroso fra Luiz e Manuela. Quindi, anche altre dichiarazioni sostegnate di Barzan lasciano il tempo che trovano. Dice, è vergognoso che i miei assistiti siano stati ascoltati a sette per nove ore, ogni volta per nove ore. Lo trovo vergognoso. Ma vergognoso cosa? Cioè, gli inquirenti fanno il loro mestiere e lo fanno fino in fondo. Evidentemente, se li hanno ascoltati ripetutamente più volte per tanto tempo, significa che avevano molto da chiarire. Non so se lo hanno chiarito. Quindi, non trovo assolutamente nulla di vergognoso e quindi non è nemmeno una forma di rispetto, diciamo, per chi fa le indagini. Poi, ho visto un po' della trasmissione storie italiane, dove si è parlato di questo invito a sorpresa di Manuela Loris, che a me lascia sempre perplessa anche questo. Viene fuori anche qui l'idea del mandante, ma voglio dire, l'idea del mandante, come ci siamo detti prima, non è che toglie delle responsabilità, anzi, e come pure nella trasmissione si sottolinea come ci sia poca credibilità sul fatto che non abbiano sentito, non abbiano sentito, diciamo, le urla strazianti che sono state così nitidamente invece assorbite da quella telecamera, benché distante. Questa è anche un'altra perplessità. Quindi, diciamo, quando io sento una difesa così a spada tratta di Barzan, mi chiedo sempre se lui è convinto o se, diciamo, esercita un suo ruolo fino in fondo. Gli inquirenti, da quel poco che filtra nell'informazione, fanno sapere che hanno una pista ben delineata e definita, stanno mettendo a posto gli ultimi tasselli, perché sicuramente hanno le idee diare, sicuramente hanno le idee diare, non c'è nessun Mr. X, non c'è nessun Phantomas. Credo che per fare, come dicevamo all'inizio, quel percorso di uscita molto distante, di rientro per perdere il portoncino, credo che sia anche probabile che abbiano forse trovato qualche traccia lungo il tunnel dei box per fare queste ipotesi di giro, diciamo, di uscita da qualche altra parte. Ve l'ho detto perché sarebbe stato troppo pericoloso, certamente, uscire direttamente per il portoncino dell'abitazione. secondo me tutto converge e credo che ci sia soltanto da aspettare. Ecco, si dire da aspettare il deposito, penso, entro breve di questa perizia autoptica. Abbiamo saputo anche ufficialmente che le tracce di DNA sul corpo della povera Pierina sono molto labili, essendo molto labili si prestano probabilmente solo a delle analisi di tipo irripetibile ed essendo di tipo irripetibile è necessario, se fosse solo per questo, fare degli avvisi di garanzia. Non lo so se tutto ciò sarà prima delle festività in questi giorni o dovremo aspettare con l'anno nuovo. Però certamente sono straconvinto che gli inquirenti hanno intrapreso la via giusta, la via corretta e che non c'è nessun Mr. X, nessun Phantomas e sicuramente se ci fosse, come qualcuno potrebbe far pensare ed esistesse quindi un mandante, questo mandante deriverebbe sempre da lì. Che invece si volesse ipotizzare un Mr. X o un Phantomas che viene da fuori e fa questa sorta di mattanza, così giusto per senza che si individui con qualsiasi tipo di motivazione, questa qua è una favola che a cui noi non possiamo credere. Quindi nella speranza che in questi giorni ci siano delle novità, io vi saluto, vi auguro buona giornata e come dico sempre, un abbraccio a tutti quanti voi.